Importante scoperta per il tabernacolo di Bettona attribuito a El Greco. Il legno è del 1496. Durante la serata molto partecipata a Bettona per l'evento Arte sotto le stelle che si avvalsa di autorevoli contributi scientifici, è stata presentata la digitalizzazione 3D realizzata a seguito dei rilievi fotogrammetrici sulle tavole di Bettona e sul tabernacolo di Castignano, ancora presso che integra una parte strutturale e le cui dimensioni degli sportelli nell'impianto architettonico appaiono similari all'altro. Una produzione curata dall'amministratore delegato di Archimede Arte Michelangelo Spadoni che poi ha ricostruito digitalmente le tavolette bettonesi sul telaio legno di Castignano in modo da poter restituire ai posteri l'idea di come l'oggetto sacro di Bettona dovesse apparire in origine, un'emozione che oggi è possibile rivivere virtualmente grazie alle ultime tecnologie applicabili all'ambito dei beni culturali. Immagini all'altissima risoluzione che hanno fatto da cornice agli interventi tenuti per l'occasione dal maestro Guerrino Lovato, attraverso un contributo video, dal consulente tecnico in beni culturali Mariella Lobefero, dal ricercatore Francesco Traversi e dal dirigente del CNR Nicola Macchioni. La serata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia, del sindaco di Castignano Fabio Polini e del direttore del museo di arte sacra di Castignano Monsignor Vincenzo Catani. Maurizio Tittarelli Ruboli in rappresentanza della fondazione Perugia nei suoi saluti ha sottolineato la grande qualità, l'interesse e l'importanza del format Arte sotto le stelle per avvicinare un pubblico semplice all'arte e alla cultura. Il rappresentante della fondazione Perugia ha invitato il comune di Bettona e Archimede Arte a continuare a rappresentare progetti di questa tipologia in quanto seguono le linee guida dell'ente istituzionale.